bentornati amici nel mio canale oggi andremo a vedere come si realizzano dei piedini di gomma di varie tipologie utilizzando come base dei perni in acciaio passometrico le applicazioni sono infinite possono essere utilizzati anche come antivibranti per strumenti di misura di precisione i più semplici utilizzano della guaina termoletraibile come rivestimento antigraffio ma in questo video vedremo anche tecniche particolari utilizzando un siliconico ad alta viscosità chiamato anche motor seal perfetto iniziamo a vedere come si realizzano questi piedini partiamo dal primo metodo che utilizza della semplice guaina termoletraibile procuriamoci uno più perni che abbiano la testa svasata prendiamo della guaina termoletraibile del diametro uguale o maggiore del diametro della testa del perno tagliamone dei pezzettini in modo che ricoprano parte del filetto e l'altra estremità che spunta dalla testa qualche millimetro non di più mi raccomando centrate bene se il perno è troppo corto realizzate una prolunga con un altro perno che abbia lo stesso passo e usate un dado di disunzione tutto questo per non affumicarvi le mani durante il processo di termolestrizione fate ruotare bene per riscaldare in modo uniforme tutta la guaina e raffreddate la superficie di appoggio per appiattirla in modo di avere una maggiore stabilità finito molto carino adesso non sembra nemmeno più un perno portiamo a battuta il dado come riscontro di appoggio bene realizziamo di tutti e quattro guardate che spettacolo questi piedini montati su una ventola di raffreddamento che ho costruito per realizzare uno strumento atto alla sverigliatura e lucidatura guardate la fine filmato è interessante andiamo adesso a vedere la soluzione 2 e che utilizza la pasta rossa detta anche motor seal come stampo ho utilizzato la parte terminale dell'involucro di plastica dello start ma anche un qualsiasi tappo di plastica potrebbe andare bene prendiamo la pasta rossa chiamata motor seal altro non è che un siliconico dall'alta viscosità molto gommoso e riempiamo il nostro piccolo contenitore a 90 per cento della sua capienza una volta completato andiamo ad immergere l'interno utilizzando questa piccola struttura di alluminio lasciate asciugare per almeno 48 ore e forse anche qualche ora di più finito il tempo andiamo a vedere il risultato guardate che spettacolo ha preso forma dell'interno del tappo trasformandosi in un piedino molto morbido di sicuro un prodotto simile non lo troverete mai da nessuna parte pensate che l'abbiamo realizzato in casa veramente con una spesa praticamente nulla si installa in modo semplice basta solo un foro e un dado di sigillo ho realizzato in passato questi gommini per strumenti di analisi per la co2 molto costosi e sensibili alle vibrazioni eccoci giunti alla soluzione 3 stesso risultato ma con una tecnica differente questa volta prendiamo un perno metrico a testa cilindrica e tagliamo un pezzetto di guaina che ricopre tutta la testa e che spunti fuori almeno 3-4 mm inseriamo un dado per almeno 3-4 filetti come base di appoggio per il perno procediamo anche con il secondo stessa medesima regola questa volta vi insegno un altro trucchetto prendiamo una silinga da 2,5 ml possibilmente nuova rimuoviamo l'ago e andiamo a togliere lo stantuffo perché metteremo all'interno la quantità di silicone che ci servirà rimettiamo lo stantuffo e spingiamo fino a portare il composto al beccuccio terminale con questa piccola silinga potete avere meglio il controllo sulla colata iniziamo con questa piccola silinga per la prima volta adesso che avete capito la tecnica potete fare tanti piedini utilizzando perni anche di moderata grandezza le tecniche sono sempre le stesse maggiore sarà il perno naturalmente e maggiore dovrà essere tutto il restante termoguaina e quantità di siliconico da questa base potete ricavare un sacco di modelli diversi e vi assicuro che le applicazioni sono veramente infinite finalmente siamo giunti alla fine anche di questo video tutorial spero vi abbia fatto piacere conoscere questa tecnica che ogni tanto utilizzo per alcune situazioni particolari piano piano vi farò vedere tanti altri trucchetti che ho acquisito negli anni e vi rinnovo il suggerimento nell'iscrivervi al mio canale per restare aggiornati sulle prossime uscite guardate anche tutti gli altri miei video il canale ne è pieno e naturalmente di rilasciare un bel like e di condividere sui social se credete che possa essere di aiuto anche per qualcun altro vi saluto un abbraccio e buona continuazione